Buongiorno Movese Gerigena Ucci Mantegheri Calcio interno al torscio Nel cuscini ne ho portato anche qui dentro E' un po' più difficile quando combattiamo con il puglio a viso Perchè se io pulgo la distanza Qui mi colpisce Quindi è molto più facile Qui si è in attacco, si è in difesa E' un po' sotto Vediamo due situazioni Due soluzioni più che altro Per controattaccare questa tecnica Nella prima Poi gli richiesto una buona dose di Anticipazione Quando lui entra Cerca di percepire la sua pressione di attaccare Con i segnali E vado a controattaccare la gamba al posto Veloce E sempre Spostarsi di lato Vai a rimanere in mezzo perchè Può saper lottare a terra Può afferrare e calciare Ok E quindi Sempre spostarsi Ancora una volta un pochino veloce Sempre spostarsi Può saperlo future Può saperlo Ti è astrutto Può saperlo Grazie a tutti.